salve buongiorno ho guardato due video mi ha fatto venire la voglia di venire nel bosco alla bellezza di mezzogiorno però sono venuto c'è mai orario per venire nel bosco sempre bello il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Grazie a tutti 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 Salve Fa freschino Però con il nostro amico focherello Si sta da dio Vabbè Bosco prenatalizio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Anche oggi è andata Stiamo avendo buio Si torna a casa E' un posto magico E' un posto magico questo qua Grazie a tutti